L'arrivo del fuoco del Morrone e il corteo storico quest'anno si fondono il 23 agosto perché anche il percorso del fuoco è stato rimodulato nelle date per le esigenze legate alla visita del Papa. Rete 8 seguirà in diretta sia il giorno del corteo che quello della visita di Papa Francesco, ovviamente. Il cammino del fuoco è l'iniziativa più antica legata alla perdonanza, la partenza il 16 agosto dall'eremo di Sant'Onofrio con tante iniziative durante il percorso nei giorni precedenti all'arrivo del 23, che ci sarà alle 17 a San Bernardino dove il fuoco si unirà al corteo storico per arrivare a Collemaggio con l'ultimo tedoforo che sarà un ragazzo ucraino della Nazionale di Ciclismo. Stiamo adeguando alla visita del Papa anche sia la fiaccola che il corteo storico che contemporaneamente si svolgerà. In questo momento le due cose si uniscono e quindi abbiamo dovuto rimodulare un attimino tutto, non snaturando niente ma cercando di conciliare tutte le varie esigenze rispetto a questa nuova disposizione in sostanza. Il corteo della bolla partirà il 23 agosto dai quattro cantoni alle 18. A Piazza Duomo il corteo vedrà l'aggregazione dell'arcivescovo e poi è previsto l'arrivo sul prato di Collemaggio con la cerimonia di accensione del Tripode della Pace e la lettura della bolla del perdono. Il corteo torna mobile dopo essere stato statico a causa della pandemia. La chiusura della Porta Santa ci sarà invece il 29 agosto alle 18.30 alla Basilica. Qui ci sarà la Santa Messa con il rito di chiusura al rientro della bolla. Il corteo raggiungerà la sede municipale di Palazzo Fibioni facendo il percorso inverso a quello del 23 ma senza girare intorno a Piazza Duomo. Quest'anno è un anno di coincidenze meravigliose. Abbiamo il Papa, abbiamo il Fuoco del Morrone e il corteo storico che si fondono e abbiamo il ritorno di questo corteo in presenza dopo due anni di pandemia. Sarà una perdonanza meravigliosa e vogliamo che tutta la popolazione di Santa protagonista di questo momento partecipi in maniera massiccia sia a vedere il corteo e anche le associazioni avranno la possibilità di aggregarsi al corteo storico attraverso un modulo che è online già da adesso. In conferenza stampa, oltre a Raffaele Daniele, vice sindaco, e a Fabrizia Quiglio, vice presidente del comitato e Floro Panti, anche Pietro Piccirilli che si occupa da sempre del corteo storico. Perché il che riguarda il corteo? Si è ricordata Giovanna Di Matteo, la sua cura negli abiti e nella ricerca storica è prematuramente scomparsa. Il corteo è una certezza, ci saranno anche 80 bambini che sfideranno, i gruppi storici saranno 16, 3 di fuori l'Aquila, Cerchio Celano e Antrodoco.